Un'amica su Facebook mi chiede, visto che ha trovato la recensione di un sito, in questo caso blendfoo.com da dove si possono scaricare centinaia e centinaia di splendidi pennelli creativi per Photoshop dice, sì però io li scarico ma poi come accidenti li utilizzo all'interno di Photoshop Bene, l'operazione è semplicissima, vediamola partendo da zero siamo sul sito che ci interessa, scegliamo i brush, i pennelli che ci interessa scaricare in questo caso andiamo a scegliere la versione per Photoshop, CS e superiori mentre in questo sito, appunto, blendfoo.com c'è la possibilità di scegliere anche pennelli che siano compatibili con le versioni di Photoshop 7 o inferiori ma mi auguro che abbiate almeno la CS, CS2, se non CS5 addirittura quindi clicchiamo sul pulsantino per scaricarle e vedete che in un attimo me le trovo già scaricate ora io sto lavorando su Mac ma l'operazione è in tutto e del tutto simile a quando le scarichiamo anche su PC quindi non vi fate nessun tipo di problema me le trovo nella mia cartella di download quindi mi trovo un file che si chiama con questo nome strano e che ha questa tipologia di icona ha un'estensione che è .abr ecco, ora potete decidere due cose o crearvi una cartella sul vostro hard disk dove andate a posizionare tutti i pennelli che scaricate in modo tale che ve li troviate, ve li possiate copiare e trasportare da qualsiasi parte oppure c'è una cartella nel vostro disco rigido dove sono depositati tutti i preset di Photoshop per cui per quanto riguarda il Mac dovete andare su libreria application support Adobe Photoshop CS5 preset mentre per quanto riguarda il percorso su PC sarà programmi, disco C, programmi Adobe Photoshop CS5 o la versione che avete e andate a cercarvi dove trovate la cartella brushes brushes non sono altro che i pennelli quindi potete benissimo scegliere di copiare o spostare dalla cartella di download nella cartella brushes ossia appunto pennelli e inserire in questa cartella ma va bene qualsiasi altra cartella non c'è un indirizzo specifico che dovete seguire dopodiché andiamo in Photoshop clicchiamo sullo strumento pennello facciamo un bel tasto destro sul pennello con lo strumento pennello e facciamo comparire il nostro menu a scomparsa andando a sceglierci la voce carica pennelli a questo punto vado a posizionarmi direttamente dove avevo salvato o copiato il set di pennelli appena scaricati non faccio altro che cliccare su apri a questo punto me li ritrovo in coda a tutti gli altri pennelli che avevo già installato quindi per esempio prelevo questa versione questo pennellino mi scelgo il colore che più mi pare piace e incomincio a spennellare con il mio nuovo pennello facile no?